Ritorna a riflettere ai nostri microfoni il collega giornalista di Repubblica di origini spicesi Lucio Luca, che nell'intervista rilasciata al nostro direttore Piero Giunta ci parla del suo nuovo libro in uscita in questi giorni, 4 centesimi a riga. Lucio Luca racconta in questa sua nuova fatica giornalistica di Alessandro Bozzo, un giornalista calabrese alla soglia dei 40 anni, un vive della vita al quale arriva con un carico di minacce da parte dell'andrangheta, un lavoro sempre più in bilico e un matrimonio che sta per fallire. All'improvviso da cronista di provincia, coraggioso e mai asservito a potenti e intoccabili, si rende conto che tutto ciò in cui crede e per cui ha sacrificato l'esistenza sta per crollare. Un racconto crudo del contesto nel quale viveva Alessandro e ancora vive e lavora gran parte del giornalismo italiano, soprattutto al sud e nelle periferie, tra precarietà, sfruttamento, salari al di sotto della decenza, pressioni psicologiche, mobbing, editori senza scrupoli e quotidiane intimidazioni. La vicenda personale di Alessandro Bozzo, qui ripercorsa attraverso un diario testamento, diventa così un grido collettivo contro lo stato di abbandono e iniquità dell'informazione del nostro paese. Una storia drammatica che è anche un inno alla libertà di stampa. Ascoltiamo. Allora Lucio, parliamo del protagonista del tuo nuovo libro, chi è Alessandro Bozzo? Alessandro Bozzo è un giornalista calabrese alla soglia dei 40 anni, un video della vita al quale arriva con il carico di una serie di minacce da parte dell'andrangheta, un lavoro sempre più in bilico, un matrimonio che sta per fallire. È un cronista di provincia, coraggioso, ma è servito ai poteri forti che all'improvviso si rende conto come tutto quello in cui aveva creduto e per il quale aveva sacrificato la sua esistenza sta per crollare. Quello di Alessandro è il contesto nel quale vive gran parte del giornalismo italiano, soprattutto al sud e nelle periferie, tra precarietà, sfruttamento, salari al di sotto della decenza, pressioni psicologiche, mobbing, editori senza scrupoli e quotidiane intimidazioni. La sua vicenda personale, ripercorsa attraverso un diario testamento, diventa così una storia collettiva sullo stato dell'informazione nel nostro paese. Ecco, come nasce l'idea di intitolare il libro Quattro centesimi a riga? Quattro centesimi a riga, libro che ho scritto e che riprende un libro che avevo scritto qualche anno fa, che si intitolava L'altro giorno ho fatto 40 anni, è un libro drammatico ma anche un inno alla libertà di stampa. Lo ha pubblicato Zolfo Editore, sarà in tutte le librerie d'Italia disponibile dal 10 di giugno, chiaramente anche in tutte le piattaforme da Amazon IBS, lo trovate già. Verrà presentato ufficialmente il 10 giugno al Festival Una Marina di Libri di Palermo, ma poi andrà in giro per varie rassegne, festival e incontri, anche perché dal libro abbiamo tratto un monologo teatrale affidato ad un artista straordinario come Salvo Piparo, che è accompagnato da un polistrumentista bravissimo che si chiama Michele Piccione, andremo in giro per tutta l'Italia, soprattutto andremo in giro l'anno prossimo nel 2023, quando ricorderemo i 10 anni dalla morte di Alessandro Bozzo e quindi se volete il libro Quattro centesimi a riga Zolfo Editore è già disponibile e tra l'altro presto, credo l'otto luglio, ma questo poi lo confermeremo, lo presenteremo anche a Ispiga. Grazie a tutti. Ringrazio Lucio Luca, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.